In collaborazione con Banca Popolare di Cremona Banca Popolare di Cremona Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato al volontariato Il bene moltiplica il bene Quest'oggi sono in compagnia di Riccardo Merli, consigliere di gruppo articolo 32 Allora, innanzitutto, la storia di questo gruppo articolo 32 Questa associazione di volontariato nasce nell'aprile del 2010 Per iniziativa di tre amici, Carlo Giordano, Ilaria Cavalli e Giosa Compiani Che hanno avuto l'idea di dar vita a un'associazione che raccogliendo altri volontari Potesse garantire la tutela della salute La tutela della salute di base, soprattutto attraverso degli ambulatori di base Alle persone che non avevano l'assistenza sanitaria garantita nel nostro paese E a tutti comunque le situazioni di emarginazioni presenti nella nostra città Questo naturalmente sulla scia di altre associazioni analoghe Che erano già nate negli anni precedenti in molte altre realtà italiane E quindi da un gruppo di tre amici Coinvolgendo naturalmente anche in questo modo conoscenti amici L'associazione si è allargata Ed ha iniziato con degli ambulatori che venivano fatti bisettimanalmente Nella parrocchia di Sant'Agata E nella cooperativa Drop-in In via Buoso da Dovara Poi negli anni successivi, grazie anche all'interessamento del comune Abbiamo ottenuto la nostra sede Proprio della nostra associazione con un ambulatorio dedicato solo per noi Qui nella cittadella della solidarietà nel parco del vecchio passeggio Il nome ovviamente è un riferimento all'articolo 32 della Costituzione Esattamente, esattamente L'origine è proprio legata al cardine della nostra associazione L'articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto della salute Ad ogni individuo presente nella nostra città, nel nostro paese Non facendo distinzione tra cittadini italiani Col permesso di soggiorno o senza permesso di soggiorno Questo secondo noi ha un grande significato Perché i padri costituzionali avevano visto proprio come il diritto alla salute Fosse un diritto assolutamente inalienabile per ogni individuo Ed è a questo che ci richiamiamo anche continuamente noi nella nostra opera Prestando con i nostri limiti e con le nostre possibilità Un'assistenza sanitaria di base a tutte le persone che appunto non sono coperte dall'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale Ma che evidentemente hanno delle necessità Ecco, quanti volontari in questo momento sono coinvolti nella vostra associazione? Siamo circa una trentina di volontari Molti medici, molti infermieri ma anche molte persone che con la loro disponibilità di tempo ci aiutano nelle varie attività dell'associazione Soprattutto nelle due momenti principali che sono il martedì e il venerdì Quando ci sono gli ambulatori di accettazione appunto e di visita Ecco appunto, i servizi che voi offrite qui nella Cittadella, nel Parco del Vecchio Passeggio Quando ci sono e quali sono? Ecco, sono due ambulatori Il martedì dalle 9.30 alle 11 E il venerdì dalle 15 alle 16.30 È un servizio sanitario di base Come quello che potrebbe essere paragonato al servizio del medico di famiglia Il medico di medicina di base E noi riusciamo quindi a rispondere alle prime necessità delle persone Grazie ad un accordo che è stato sancito tre anni fa con l'azienda Istituti ospitali di Cremona e l'ASL di Cremona Abbiamo la possibilità di prescrivere attraverso il ricettario unico nazionale Alcuni accertamenti strumentali e laboratoristici e anche delle visite specialistiche Ecco, perché mi veniva in mente appunto Come è la procedura, visto che appunto non avendo il testerino sanitario Come si può procedere in questi casi? Diciamo che tutte le persone che stranieri residenti in Italia senza permesso di soggiorno O comunque in attesa di una regolarizzazione Sono dotate di un documento che si chiama STP Stranieri temporaneamente presenti È un codice che viene rilasciato o dalla struttura ospedaliera O da noi o dal consultorio Attraverso questo codice e questo certificato Che ha la durata di sei mesi rinnovabile Le persone presenti sul nostro territorio Hanno diritto a un'assistenza medica per prestazioni urgenti ed essenziali Ecco, viene rilasciato questo certificato soprattutto dal pronto soccorso Ma anche e soprattutto dalla nostra associazione Proprio perché noi siamo forse un po' i primi Che soprattutto in questi anni si sono fatti un po' carico Di tutti questi persone che arrivano nel nostro paese Immigrati dal sud E che vengono accolti nelle nostre strutture Qua nella nostra città e nella nostra provincia È un servizio che offrite anche agli italiani Che però non hanno la testa sanitaria Funziona lo stesso momento? Offriamo a questo servizio anche agli emarginati A tutti gli emarginati E a tutte le persone che per vari motivi Pur avendo magari diritto all'assistenza sanitaria nel nostro paese Perché magari i cittadini italiani Non essendo residenti nel nostro comune Si trovano comunque scoperti da questo punto di vista Stiamo parlando di clochar, barboni, persone emarginate Tossicodipendenti In questi anni abbiamo avuto varie storie di persone Un po' ai margini Che almeno per quanto riguarda il nostro piccolo aspetto Sono stati seguiti Ecco, un volontario che volesse far parte di gruppo articolo 32 Che caratteristiche deve avere? Cosa deve fare? Ma deve avere soltanto un po' di tempo da dedicarci Noi abbiamo veramente bisogno Diciamo che per l'aspetto sanitario Siamo un certo numero di medici Però c'è tutto l'aspetto organizzativo Perché anche essendo una piccola associazione Tutto l'aspetto burocratico, organizzativo Per la registrazione dei pazienti Per seguire l'aspetto economico Che non è da poco E quindi chiunque con la sua buona volontà La sua professionalità Volesse farsi avanti Noi siamo veramente contenti Veramente contenti Invece un utente che vuole usufruire dei vostri servizi Come viene a conoscenza di gruppo articolo 32? Noi ormai siamo abbastanza Nella piccola realtà cremonese abbastanza noto Perché non siamo isolati Siamo in contatto con varie associazioni Soprattutto con la Caritas Con tutte le cooperative che operano sul territorio E che accolgono ormai Queste persone che arrivano dal sud del mondo E anche con la Croce Rossa Per quanto riguarda ad esempio le unità di strada Con Drop-in per quanto riguarda i tossicodipendenti Con le parrocchie Abbiamo una rete ormai di conoscenze Quindi lavorate in rete con diversi studenti Lavoriamo in rete con tutti Anzi lo stesso pronto soccorso In molte situazioni Diciamo Ai pazienti che si riconoscono in ospedale Consiglia di far riferimento alla nostra associazione Per essere poi seguiti magari dopo un'eventuale urgenza Che si presenti là Dottor Merli C'è un altro importante servizio Che è l'avvocato di strada Sì Da circa tre anni anche qui in rete Con altre associazioni presenti in tutta Italia Presso la nostra associazione è presente uno sportello Chiamato avvocato di strada Seguito come responsabile dell'avvocato Monti Ma con la partecipazione all'aiuto anche di altri avvocati cremonesi Che fornisce un servizio anche qua di assistenza di base Dal punto di vista legale Per tutte le persone che trovandosi in difficoltà Per la gestione di tutti gli aspetti legislativi Riguardo al permesso di soggiorno La richiesta di asilo Si trova nella difficoltà economica Di non poter affrontare delle spese Anche qui noi il lunedì Alle 17 E' aperto questo sportello Per chi volesse e avesse bisogno Noi forniamo anche questo servizio Parliamo un pochettino dei numeri Di gruppo articolo 32 dell'associazione Si, proprio recentemente Per fare un po' il punto della situazione Abbiamo fatto un po' di numeri Noi dal 2010 Abbiamo effettuato più di 2500 visite Quasi 2600 visite Con quasi 1000 pazienti Che si sono rivolti a noi 1000 persone che si sono rivolte a noi Quindi dei numeri Secondo me Di un certo peso Perché avete visto anche stamattina Nel nostro ambulatorio C'è una presenza numerosa Insomma di persone che si rivolgono a noi Ecco Noi li aiutiamo anche per quanto riguarda La distribuzione dei farmaci Distribuendo dei farmaci Che l'ASL ci fornisce Quindi c'è una collaborazione importante Anche sotto questo aspetto Soprattutto anche col banco farmaceutico Che ogni anno ci regala Dei farmaci da banco Che sono estremamente utili Per le malattie di primo impatto E poi molti farmaci Li compriamo noi Quindi noi abbiamo Questo impegno economico Che ci costringe anche A fare un po' di ricerca Di offerte per la nostra associazione Perché dove non arriva l'ASL Dove non arrivano i farmaci Il banco farmaceutico Noi li prescriviamo E poi li paghiamo noi Con i fondi Che raccogliamo annualmente Per quanto riguarda la legislatura Come vede l'associazione Gruppo Articolo 32 nel futuro? Ma in realtà mi verrebbe da dire Che la nostra associazione Nasce proprio per coprire Delle falle Della legislazione attuale E quindi E riguarda soprattutto Queste persone che arrivano Soprattutto per quelli Che richiedono Asilo politico Che avrebbero diritto Ad avere l'assistenza sanitaria In nostro paese E che invece si vedono Dei tempi di riconoscimento Estremamente lunghi E una burocrazia E una burocrazia molto lenta E quindi il nostro augurio È che Velocizzando queste pratiche Poi anche loro Possano avere Un'assistenza sanitaria Più completa Dottor Riccardo Melli Grazie mille Grazie a voi Per averci ospitati In bocca al lupo Per il lavoro di Gruppo Articolo 32 Grazie a voi Volontariato Il bene moltiplica il bene Torna alla prossima puntata Arrivederci Grazie a tutti In collaborazione con Banca Popolare di Cremona Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti